Ciao a tutti, anche a me è arrivato un'email da una certa dottoressa Marchetti che sta girando in questi giorni, ma è una truffa. Questa email dice Gentile signore, a causa del fatto che nella sua zona sono documentati casi di infezione del coronavirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preparato un documento che comprende tutte le precauzioni necessarie contro l'infezione dal coronavirus. Le consigliamo vivamente di leggere il documento allegato in questo messaggio. Distinti saluti, dottoressa Penelope Marchetti. Organizzazione Mondiale della Sanità Italia. Ovviamente non aprite nessun allegato e non cliccate sul link. Questo è un malware che potrebbe rubarvi i dati sensibili come nome e cognome, password e i dati bancari, altrimenti sarete vittime di hackeraggio. Se vi arrivasse un'email del genere, mi raccomando, segnalatelo direttamente alla polizia postale.